No, che è stato cacciato, adesso le parole ecco Ma dire l'altro quando torno, come se niente fosse Sì ma forse non hai capito che Mario Non ti è messo vicino a noi quando abbiamo fatto la mangiata Si giù ti metto a tenga donato Cioè dall'altra parte proprio del tavolo Sì, dopo che è stato pure criticato ecco Ma perché quello che ha un po' alle spalle di quello Da solo, non è nessuno, capito i tuoi problemi E poi che non ci starà lui Sai quanta gente che avrà in mezzo a secolo Quando è donato lo manderà a cagare, vedrà Però sono cazzi loro, non è tutto spiegato E a me mi interessa Io poi mi sono fatto delle domande Ho detto ma là ti riesci ad allenarti Bene, no C'hai la voglia di allenarti là, poco e niente Vieni rispettato in questa palestra A questo punto no Ti sono detto così? No, sono le domande che mi sono fatto io Ma che ti fanno per chiunque altra pezzo? Ho detto i miei valori vengono rispettati in questa palestra A quanto pare no Perché tante cose, umiltà, rispetto che tanto sono state dette In questo momento non ci sono Io parlo così anche perché sono un po' arrabbiato veramente A me non mi piace parlare Però in questo momento non riesco a fare altrimenti Non riesco a fare altrimenti Perché sono rimasto proprio deluso Quindi non riesco a non parlare Proprio la pura verità A me mi dà il cazzo a parlare male Però quando ci vuole ci vuole E basta Quando ci vuole ci vuole Caro Io ti ho detto Ormai non ti dà accogli più la sua tua moglie A fare 10 anni Ormai E' C'è C'è